Gentili telespettatori, buona giornata. Striscia la notizia spiega con un'inchiesta giornalistica perché a Napoli preferiscono il reddito di cittadinanza al lavoro. Perché non conviene lavorare a Napoli? La risposta è molto semplice, io l'ho sempre detta, però adesso ci sono dei dati comunque che gli amici napoletani conoscono perfettamente, ma dalle altre parti d'Italia magari no, anzi probabilmente no. Il reddito di cittadinanza ha avuto l'unico merito di accendere le luci su quello che è tutto il mondo dei lavori sottopagati in Italia. Sottopagati, quei lavori che ti rendono povero. Tu lavori 8, 10, 11, 12 ore al giorno e sei un povero. Cioè, è un'antitesi, io l'ho sempre detto ai miei alunni. Chi lavora non può essere povero. Chi lavora non può essere un povero. Chi è disoccupato probabilmente sì, ma chi lavora non può, non dovrebbe. In molti paesi del mondo la gran parte dei lavori sono sottopagati. Una miseria ti pagano. La puntata di ieri 12 ottobre di Striscia la notizia su Canale 5 mette in luce quanto vi racconto adesso. Ricordate che Flavio Briatore prima dell'estate poneva il problema dei lavoratori stagionali. Non trovo lavoratori stagionali e li pago bene. Sarà davvero così? Si chiede Antonio Ricci nel TG Satirico. Intervistano diverse persone a Napoli camerieri che lavorano in nero 12 ore al giorno per 180 euro a settimana. Attenzione, eh? 12 ore al giorno per 180 euro a settimana. Prendiamo una calcolatrice e facciamo 180 euro diviso lavoreranno 5 giorni su 7? Ho dei dubbi, eh? Secondo me lavorano 6 giorni su 7. Facciamo questi 180 euro diviso 6 giorni. 30 euro al giorno. 30 euro al giorno. 30 euro al giorno diviso dice anche 12 ore al giorno vuol dire 2 euro e mezzo. allora 2 euro e mezzo paga oraria. 2 euro e mezzo. 2 euro e mezzo. 180 euro in un mese più o meno sono 750 euro al mese. 750 euro al mese. 6 giorni su 7, 12 ore al giorno, 2 euro e mezzo all'ora. Luca Abete ha provato a fare un giro per bar e ristoranti di Napoli per indagare sulle paghe, contratti, orari di lavoro. Ne è emerso un quadro desolante. Come commenta poi il presidente interprovinciale di Confesercenti, Vincenzo Schiavo. un quadro desolante. 750 euro al mese. Allora vi chiedo io in tutta onestà chi è che andrebbe a lavorare per 180 euro a settimana 750 euro al mese quando sapendo che è un lavoro sottopagato qui si parla di sfruttamento dei lavoratori immaginatevi che poi è anche quando è in nero voi non avete ferie non avete TFR non avete niente permessi nulla nulla quindi quei due euro e mezzo quando si paragonano con chi prende un lavoro da dipendente bisogna paragonarlo anche che bisogna capire che il dipendente ha la tredicesima ha le ferie ha la malattia ha i permessi ha la riduzione dell'orario di lavoro gli straordinari vengono pagati in un certo modo 750 euro al mese a Napoli per fare il cameriere in nero è sfruttamento sfruttamento ma molto spesso i datori di lavoro dicono tu mi devi anche ringraziare io sono un datore di lavoro cioè io sono un imprenditore che dà lavoro tu mangi grazie a me ma non è così è sfruttamento se tu vuoi un lavoro un lavoratore lo devi pagare bene se no il lavoro te lo fai da solo secondo voi tra il reddito di cittadinanza che di media sono 550 euro ma può arrivare anche a 600 700 700 780 euro secondo voi quanti andrebbero a lavorare per 12 ore al giorno e 750 euro al mese quando puoi stare comodamente a casa per la stessa cifra un conto è dici caspiterina mi hanno offerto un lavoro da 1500 euro 1800 2000 euro 2002 1300 1400 1100 ecco io non sto a casa per prendere 550 euro di reddito di cittadinanza vado a lavorare perché devo costruirmi un futuro poi c'è anche chi sta a casa lo stesso e si fa abbastare i 500 come commentano tanti di voi mi dicono tu sai quanta gente conosco che preferisce stare a casa e farsi bastare i 500 euro sono lì giusto giusto il caffettino al bar due spaghetti a mezzogiorno non pagano l'affitto perché casa loro se li fanno bastare e vivono tranquilli senza stress del lavoro a parte quelli che sempre ci saranno no il classico chiamiamolo fannullone certo non posso dire niente su quelli che che prendono il reddito al posto di essere sfruttati allora molti che cosa fanno e dicono va bene mi prendo il reddito e vado a fare anche lo stesso il cameriere 12 ore al giorno così mi prendo 750 da una parte 750 dall'altra mi faccio i miei 1500 euro alla fine lavoro come prima ma ho il doppio dello stipendio ho il doppio dello stipendio ho un certo stipendio certo raccimolato in questo modo non bello però mettetevi nei panni di un napoletano che nel suo ambiente i lavori offerti sono questi o similari magari vai a lavorare a fare segreteria in un ufficio di un'azienda dove ti fanno lavorare magari non 12 ore magari 10 e ti pagano più o meno la stessa cifra quindi non è solo il cameriere l'attenzione sono tanti lavori così mettetevi nei loro panni e capirete che è una situazione abbastanza difficile quindi il reddito di cittadinanza ha il suo problema ha dei suoi problemi però poi c'è proprio il sistema lavoro Italia che ha più problemi del reddito di cittadinanza abbastanza complesso comunque arrivederci a tutti e grazie